Benvenuti a Donkey on the Beach, la nostra casa ad Antigua. Eravamo ospiti di due simpaticissimi ragazzi italiani, Orietta e Danilo, che vivono ad Antigua sei mesi l'anno. Grazie ai loro consigli, la nostra vacanza è stata una super vacanza. Dalla terrazza del nostro alloggio, potevamo avere tutta la vista di English Harbor e la sera i tramonti erano fantastici. Avevamo a disposizione un grandissimo soggiorno arredato con molto gusto e una bellissima cucina in muratura dove abbiamo cucinato sovente pranzo e cena. In camera da letto avevamo un comodissimo letto a baldacchino munito di zanzariera e in camera c'era anche l'aria condizionata. Il bagno come vedete è arredato con molto gusto, anche nei minimi dettagli e la doccia è molto ampia e veramente comoda. Ma cosa ha reso ancora più speciale il nostro soggiorno è stata la dolcissima presenza di Lulu, una cagnolina dolcissima e di Tee Black. Un cagnolotto che amava tantissimo le coccole. Entrambi ci aspettavano sul terrazzo e sovente hanno condiviso il pranzo o la cena con noi. La posizione di Donkey on the Beach è strategica perché di qui si possono raggiungere le varie spiagge di tutta l'isola. Quindi veramente grazie a Orietta e Danilo per la bellissima vacanza. A presto, ciao!